Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo tutorial. Mi scuso con voi se sono stato assente con i miei favolosi tutorial ma purtroppo avevo una verifica di geografia e non potevo permettermi di prendere benino o sufficiente perché se no mia mamma non mi avrebbe comprato il nuovo code. Mi scuso ancora ma adesso sono tornato, sono in gran forma e adesso andremo ad affrontare un tema molto caldo che mi avete richiesto veramente in tantissimi ovvero il fotomontaggio. Per fare questo tipo di operazione ovviamente andremo ad usare il programma più professionale e più bello per il fotomontaggio ovvero Paint. Ecco qua Paint. Io ovviamente ce l'ho salvato nella barra dei preferiti, dei programmi preferiti però voi lo potrete trovare in accessori eccetera. È veramente da nabbi non mettere Paint nella barra dei preferiti quindi vi invoglio a mettercelo. Allora per fare questo fotomontaggio vi servirà del materiale che io vi ho messo da scaricare in un apposito link che troverete in descrizione. La cartella in questione è foto per montaggio. Ci sono varie immagini ma quella che ci interessa adesso è Giancarlo trattino basso Magalli. Andiamo ad inserirla. Ecco qua Magalli. Come vedete ha un tono molto così sciupato, non è molto appetibile e dobbiamo renderlo un po' più mascolino. Andiamo su incolla, incolla da e andremo a prendere un art robotico. Come vedete le cose stanno iniziando a cambiare. Il nostro Magalli sta diventando sempre più mascolino. Un art robotico non basta quindi io direi di fare incolla, incolla da, altro art robotico che però ovviamente indica come il soprannecessore a destra. Quindi io direi di fare tasto destro, ruota, capovolgi orizzontalmente. Ecco qua. Adesso avrete il vostro Magalli con due fantastici braccia robotici. Siamo un po' una sorta di imbecilla. Allora incolla, incolla da, stavolta io direi di metterci un bel copricapo a forma di tigre. Ecco qua. Cazzo. Un po' troppo grosso però questa tigre. Quindi io direi di ridurre leggermente il formato. Dal formato così un po' abbordabile. È abbastanza. Ecco qua. Riduciamolo ancora un po'. Io direi che è quasi perfetto. Ok. Una volta inserito però come vedete ci sono dei terribili bordi, proprio terribili, qualcosa di inguardabile che io andrei a cancellare con la gomma. Quindi selezionate lo strumento gomma e iniziate a cancellare. Come vedete il colore della gomma si sta perfettamente fondendo allo sfondo. Quindi non sarà una cosa parecchio disturbante per l'occhio dello spettatore. Cellate anche a sinistra. E voilà. Avete il vostro copricapo perfetto per il vostro Magalli. Io direi per concludere di fare un bel incolla, incolla da, e inserire un orango che comunque sia ci sta sempre bene. Mettetelo magari, lo so, così centrale. Ecco qua. Un bello rango centrale. Perfetto. Abbiamo il nostro fotomontaggio, direi quasi perfetto. Inseriamo una piccola didascalia così per vanto. Diamo Magalli appetibile. Mi pare, no, spero si scrive con la Y. Sì, ok. Appetibile e mettetelo qui a destra. Guardate com'è pratico. Facciamo salva con nome e salviamolo. Se vi piace tanto il mio fotomontaggio o magari non riuscite a replicarlo, come sempre vi lascio un link in descrizione dove potrete scaricare il mio fotomontaggio. Un bacione e al prossimo Tutorial Trash.